La variante inglese del coronavirus in Emilia-Romagna è attualmente stata riscontrata in 10 casi, tutte persone arrivate dal Regno Unito. La conferenza stampa organizzata oggi dalla Regione per annunciare il piano della campagna vaccinale ha inevitabilmente affrontato anche il tema delle mutazioni del coronavirus. A riguardo, l'assessore regionale Raffaele Donini ha però voluto rassicurare sulla pericolosità della mutazione e sull'efficacia dei vaccini attualmente a disposizione. Al Pfizer e al Moderna si aggiungerà in questi giorni anche il vaccino AstraZeneca. Noi abbiamo riscontrato una decina di casi, lo abbiamo comunicato e lo faremo anche nei prossimi giorni qualora ce ne fossero altri, di persone provenienti dal Regno Unito che sono state testate ovviamente con un tampone, sequenziato il virus e identificato come la cosiddetta variante inglese. Quindi ci sono in corso ovviamente tutti i tracciamenti, l'allerta è massima, stiamo ovviamente valutando tutti i segnali che ci sono sul territorio, ma a questo punto di vista per ora questi sono i numeri. Quali sono i dati a proposito della pericolosità della variante inglese? Come gli scontri che abbiamo hanno una diffusività maggiore, ma non una pericolosità maggiore e pare di comprendersi dentro anche la valutazione. Per il vaccino AstraZeneca invece che notizie ci sono? Sul tema AstraZeneca, come avete anche saputo nei giorni scorsi, è un consiglio che è stato validato e indicato per una popolazione targetizzata dai 18 anni ai 55 anni, tendenzialmente non con particolari comorbidità. Quindi ciò che si è detto nella conferenza Stato Regioni, ciò che si apprestano a fare anche le varie regioni è quello di attivare sostanzialmente un livello parallelo, e cioè vaccinazione, da un lato con i vaccini Pfizer e Moderna le prime due fasce, diciamo così quelle più a rischio, e con AstraZeneca anche categorie che il governo indicherà a breve ma che già risiedono nella terza fascia. Per quello che riguarda le forniture previste per febbraio di AstraZeneca sono 81.740 dosi per l'Emilia Romagna a febbraio e 172.822 dosi a marzo.